Lui 27 anni, sposato, padre di famiglia, lei 13 anni, figlia di amici. I genitori per motivi di lavoro l'affidavano spesso alla famiglia del 27enne, che nei momenti in cui restavano soli la ricopriva di attenzioni, tanto da prometterle di convolare con lei in seconde nozze. La ragazzina, secondo gli investigatori della sezione minori della squadra mobile, si è a poco a poco infatuata. A lui, che in parte ha ammesso le accuse, sono contestati atti sessuali completi. Stando agli accertamenti, però, sulla giovanissima non ci sono state violenze. Un'indagine molto delicata, presentata stamattina in procura. I fatti avvenuti in Valdarda, dove risiedono entrambi, risalgono all'estate 2012-inizio 2013. Ad accorgersi dei comportamenti anomali, è stata una educatrice dei servizi sociali che si è rivolta alla polizia. Sono stati quindi sentiti alcuni minorenni informati sui fatti, diverse anche le intercettazioni raccolte. Inizialmente da 13 anni negava ogni coinvolgimento e quindi sono dovuti intervenire esperti e psicologi. Oggi si trova in una struttura protetta. Il 27enne, invece incensurato, è detenuto alle novate. È stato emesso il decreto di giudizio immediato, verrà chiesto probabilmente il rito abbreviato. In questi casi è previsto una pena tra i 5 e i 10 anni. Grazie. 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 Grazie.